C'è profumo di Europa a martedì prossimo presso Teatro Monteverdi a Cremona. A partire dalle ore 20 e 30 racconteranno infatti la loro esperienza i volontari del Servizio e volontari europeo del Servizio Civile Nazionale che proporranno tra l'altro brani di autori dei propri paesi d'origine intervallati da brevi brani musicali proposti dai giovani musicisti del Dipartimento di Musicologia di Cremona. A promuovere l'iniziativa dal titolo Festa dell'Europa sono il Comune, il Centro dei Servizi per il Volontariato Lombardia e l'Anfas di Cremona. L'amministrazione municipale ha finora ospitato oltre 500 volontari italiani e più di 50 volontari europei. Proseguono anche quest'oggi a partire dalle ore 15 le visite guidate sulla cupola della pieve di Santa Maria Assunta e ad alcuni luoghi suggestivi dell'ex convento dominicano di San Giacomo a Soncino. Tutte le domeniche alle ore 15 ogni mezz'ora con partenza tra San Giacomo e la pieve partiranno le comitive di turisti e curiosi. L'iniziativa viene promossa dall'Associazione Il Borgo assieme a Castrum Soncini. Sarà la cultura farla da padrono la manifestazione maggio dei libri promossa dal Comune di Castelleone. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 12 maggio alle ore 21 con Cercando Abele, racconto di Gian Sacchi Landriani, interpretato in sala Giovanni Paolo II dalla compagnia teatrale El Turas. L'ingresso è libero.